ed eccoci tornati live dai nostri studi per dare il via all'ultimo momento di questa intensa giornata intensa mattinata dove davvero tante cose sono state dette tanti elementi che serviranno per il futuro sono stati messi sul tavolo elementi che poi adesso dobbiamo fare sempre più nostri un concetto che abbiamo ripetuto davvero davvero più volte abbiamo esplorato potremmo dire a 360 gradi il tema dell'open innovation ma ecco qui il punto di riflessione che vorrei condividere con tutti voi nelle ultime battute se abbiamo anche dei progetti di condivisione quindi quelli di cui abbiamo parlato li abbiamo sul tavolo siamo consapevoli che dobbiamo seguire questi progetti per innovarci ma se poi non ci sono delle radici robuste delle basi le classiche e le famose fondamenta su cui appoggiarle credo che insomma non abbiamo fatto granché spesso è per quello che si rimane indietro non perché non si hanno le idee non perché non si sia consapevoli di quello che bisogna affrontare ma perché proprio non abbiamo le basi per poterlo fare e non vuole essere ovviamente una critica o meglio laddove lo sia serve per guardare in prospettiva futura in modo propositivo appunto e questo è quello che vogliamo fare dobbiamo capire come possono essere sviluppate in azienda le varie culture che ruotano intorno a questa rivoluzione e gli elementi che possono poi garantire una una riuscita perfetta allora vediamo se riusciamo a farlo con il mio ospite che chiuderà con me i lavori Alberto Baccari Edov Innovation Endurance Group Alberto ciao ben trovato buongiorno buongiorno a tutti oserei dire che è una grossa responsabilità in chiusura di lavori perché dobbiamo dobbiamo cercare di tirare le somme insieme però credo che ce la potremo fare assolutamente sì anche dato l'orario cercando di essere brevi e con sostanza eh sì la sostanza bravissimo allora e beh anche perché ottimizzare è un altro è un altro aspetto che bisogna riuscire a rendere nostro no quando si parla di business allora partiamo proprio eh della cultura dell'innovazione come portare la cultura dell'innovazione in azienda cioè di cosa parliamo esattamente quando ci riferiamo a questo tema? Beh parlare di cultura dell'innovazione in azienda è una penso delle cose più complesse che ci sia da fare perché mentre il CFO parla guardando dei numeri a un Excel vede l'ultima cifra in basso a destra l'innovazione non è così eh schematizzabile non è così eh non si può riprodurre con questa stessa facilità e in più è una parola che porta dietro o diverse sfaccettature ad esempio abbiamo l'innovazione tecnologica abbiamo un'innovazione nella comunicazione abbiamo un'innovazione di prodotto sulla privacy insomma sulla cultura aziendale quindi l'innovazione eh è un mindset deve essere allenato l'innovazione e soprattutto come fare a portarla all'interno e noi siamo abbastanza agevolato in quanto italiani per tutta la prima parte ovvero su tutta la parte di generazione di idee di cura del prodotto eh non a caso esiste un brand forte come il made in Italy dall'altra parte però c'è la parte di cultura e ci sono dei framework che funzionano molto bene e uno di quelli che noi adottiamo maggiormente eh viene ripreso dal MIT che è la you theory che è un percorso che parte dalla consapevolezza quindi da andare a coltivare e quindi prendere consapevolezza disseminare e co-costruire co-creare eh un processo per poi andarlo a lanciare ok e quindi eh volendo c'è anche tanta concretezza nel mondo l'innovazione dei framework ben consolidati internazionali che hanno dei case history molto importanti anche nel settore banking ecco agganciamo altri pezzi poi tanto è un discorso assolutamente fluido e visto che il nostro titolo è proprio insomma dall'open innovation al personal innovation gli step per rinnovare la cultura aziendale rimaniamo sempre sulla cultura però agganciando come ho detto poco fa dei pezzi parliamo prima dei principali problemi che è possibile incontrare quando si sviluppano progetti di innovazione cioè quando bisogna innovare bene non me ne vorranno i colleghi dell'innovazione ma eh ognuna delle eh delle figure chiave in azienda ha ha una visione dell'innovazione a sé stante eh i vari CIO devono fare innovazione hanno quel mandato eh compreso il CFO che deve efficientare dei costi oppure magari il revenue officer che deve aumentare le vendite quindi ognuno ha una propria visione dell'innovazione eh la problematica che può sorgere ad esempio è quella eh relativa non far convergere tramite appunto un processo di co-design tutte queste necessità tutti questi punti di vista eh circa l'innovazione quindi ognuno avrà delle necessità eh differenti e se a monte prima ancora di cominciare a scrivere qualsiasi riga di codice o chiamare qualsiasi tipologia di consulente non si è fatta chiarezza sulla visione dell'innovazione che si vuole fare bene questo è il più grande pain point o comunque sia eh fail che può esserci all'interno di un processo quindi innanzitutto coerenza di visione ci sono degli strumenti ci sono dei canvas che aiutano a fare questi esercizi ma quando non quando ciò non si è fatto io eh non ho sicuramente le esperienze di tutti gli altri colleghi che mi hanno preceduto sono appena dieci dodici anni che sono nel nel settore dell'innovazione tecnologica ma quando ci siamo relazionati anche con grossi eh player eh la visione ha cambiato il risultato del del progetto quando si è allineati e soprattutto si comunica a tutti la stessa eh con la stesso linguaggio e con gli stessi intenti. Ok adesso analizziamo proprio i due aspetti cioè in quali eh ti chiedo situazioni parliamo di persone perché adesso persone esatto perché di quello si tratta sono le persone che devono recepire i cambiamenti eh da una parte quali sono le le situazioni in cui si può trovare più resistenza al cambiamento invece dall'altra parte quali sono gli elementi che magari sono fondamentali affinché tutte le persone che collaborano riescano andare nella stessa direzione quindi riescano proprio a stare al passo con i progetti di innovazione. Allora eh essenzialmente questi progetti sappiamo che partono top down quindi eh si parte dal management. I problemi per quanto riguarda le persone essenzialmente ehm una mancata o comunque sia non esaustiva conoscenza della materia o dello strumento tecnologico perché premessa l'innovazione e la tecnologia sono due cose distinte. Se però parliamo di innovazione tecnologica molto spesso il management ehm ha bisogno giustamente di fare un un percorso di formazione per comprenderne tutte le eh gli aspetti pro e contro di una data tecnologia e quindi se magari è necessaria o meno per poter poi guidare eh la parte down. Più scendiamo e più partono determinati flag che devono essere eh colmati o ben gestiti ad esempio la paura di perdere il posto di lavoro. ehm io mi occupo da sei anni di intelligenza artificiale nel mondo sales e marketing anche per grandi gruppi grandi data provider ed effettivamente eh il fatto che tu puoi lanciare un'analisi un report in trenta secondi invece che in settimane effettivamente agli analisti porta dei pensieri no? E quindi possono partire dei sabotaggi eh oppure portare una tecnologia anche di prodotto servizio o nuova innovativa che porta all'azienda dei benefici ma sotto i collaboratori non non la padroneggiano quindi anche loro dovrebbero essere formati all'utilizzo di questa tecnologia. E poi c'è un punto che mi piace eh diciamo stimolare è che se si ha un approccio se vogliamo etico che è una parola etica sostenibilità estramica abusata no? Lo trovi dalle merendine al supermercato a ovunque ok. però un approccio etico che significa consapevole dove tu co-design, co-progetti la soluzione con tutti gli stakeholder allora lì eh possono emergere in totale trasparenza tutti i possibili fattori di eh sabotaggio del progetto. Essenzialmente eh quindi per riacchiudere in sintesi nel top c'è da da conoscere da fare dei percorsi sponsorizzare dei percorsi di conoscenza tecnica con dei business case sulla data tecnologia e per quanto riguarda poi gli implementatori o comunque sia eh i collaboratori fare della formazione far comprendere tutte le implicazioni che questa tecnologia avrà per il proprio lavoro farli sentire al sicuro perché se no il sabotaggio è dietro l'angolo. Vabbè certamente sì eh se non si è pronti no a parare i colpi figuriamoci ehm volevo eh parlare del concetto di cultura dell'innovazione però legandola a due parole anche qui tu prima ha parlato di sostenibilità e dopo ci torniamo in chiusura perché la voglio tenere come ultima domanda che è vero sono d'accordo è una parola molto abusata peraltro si usa e spesso non si sa neanche di cosa si sta parlando o comunque si sa a livello proprio marginale ma insomma poi noi cercheremo di di capirlo. Altre due parole che si usano tantissimo sono tecnologia soprattutto nell'ultimo anno non è una qualcosa di esclusivo dell'ultimo anno ma insomma abbiamo tutti imparato per forza di cose a usare la tecnologia e formazione che poi sono anche strettamente collegate ma come queste due parole vanno ad associarsi proprio alla cultura dell'innovazione e soprattutto in che modo allora non ti chiedo se possono crescere il far fatto che sia abbastanza scontato in che modo cioè in che portata e appunto in che modo come le cose sono collegate? Assolutamente allora sono strettamente correlate per maniere in termini statistici la formazione guida tutto quello che riguarda poi il mindset aziendale il mindset dell'innovazione e quant'altro abbiamo visto nascere decine e decine di portali su diversi target target portali di formazione per fare upskilling reskilling quindi permettere a persone che magari adesso risparmiano delle ore lavorando da casa in smart working per aggiornarsi professionalmente alcune aziende hanno già deciso di sposare questi portali per far fare della formazione ai propri collaboratori e quelle secondo me sono le aziende che atterranno maggiori risultati la formazione vi posso portare un caso concreto nostro su cui lavoriamo che un giorno la settimana dedicato alla formazione questo perché per rimanere e aumentare la competitività rispetto poi a tutto quello che è il mercato fuori se io faccio permetto al mio collaboratore di formarsi in azienda un giorno su cinque di lavoro che ha in azienda con noi allora quel collaboratore crescerà si sentirà maggiormente fidelizzato perché gli permettiamo qualcosa che ad oggi non è uso comune nelle varie realtà perché si pensa solo profitto lavora effort orari straordinari ok mentre questa parte di formazione ci permette di essere maggiormente avanti rispetto ai competitor questo ad esempio una nostra practice ci sono realtà analoghe alla nostra che hanno altre tipologie piani di formazione vanno tutti bene l'importante che sia all'interno dei processi lavorativi per fare un piccolo link prima si parlava anche sostenibilità guardate che la formazione può essere inclusa anche all'interno delle dnf noi ad esempio abbiamo un un procedimento una procedura che ci permette di certificare tutte le ore di formazione per poterle andare poi a rendicontare quindi facendo la dnf e collegandole anche agli sdgs c'è un sdgs in particolare che è quello che riguarda appunto l'equa distribuzione della formazione eccetera eccetera ne sono 17 17 con le relazioni unite ce n'è uno in particolare quindi c'è una duplice vantaggio business in termini di impatto ok ok senti a questo punto io non è che vorrei contribuire ad abusare del della parola sostenibilità però è normale che visto che abbiamo parlato fino adesso di innovazione open innovation e di sguardo al futuro proprio da questo punto di vista e visto che la sostenibilità per forza di cose a prescindere dal fatto che magari a volte si usi un po sproposito però fa parte del nostro presente ma soprattutto farà parte del nostro futuro per x motivi perché sostenibilità fa sempre più rima con innovazione con progetti che hanno a che fare proprio con l'open innovation guarda beh ti risponderei in maniera sintetica perché non abbiamo un pianeta b il senso che dobbiamo cercare di utilizzare al meglio dove la prova utilizzare in senso buono quello che abbiamo assolutamente ben gestire quello che abbiamo allora l'innovazione insita nell'essere umano nel senso quando abbiamo scoperto come essere autonomi col fuoco dalla ruota cioè noi ce lo portiamo centinaia di migliaia di anni adesso la nostra innovazione è diventata disruptive che anche questa è una parola che è stata ampiamente abusata che però porta con sé il concetto che è esponenziale sì ok quindi le nostre scelte anche dove scegliere di allocare un file un database a un un impatto esponenziale in termini di co2 in termini di forza lavoro in termini di sicurezza perché quando parliamo di sostenibilità ragazzi parliamo anche di privacy ok e quando qualcuno se ne esce dicendo che la privacy è un intoppo allo sviluppo e l'innovazione io non ridisco però al netto di questo noi abbiamo l'obiettivo ma non l'obiettivo il dovere di fare un'innovazione sostenibile cosa significa questo c'ho un caro amico collega che opera in un'importante banca italiana che ha preso in prestito da enel la parola innovability ovvero innovation for sustainability e con lui abbiamo fatto un'azienda che abbiamo venduto qualche mese fa a una quotata della consulenza bancaria e ho avuto il piacere di essere l'amministratore di questa realtà dove lo scopo è proprio quello di fare innovazione e porsi almeno due tre livelli di domanda per dire se quello che stiamo facendo è etico e giusto per tutti ma non solo per l'essere umano ma quindi per ISG quindi ambiente per il pianeta quello che dicevamo proprio perché non abbiamo un altro assolutamente quindi tutto il movimento delle bicorp che è nato che adesso sta avendo un'esplosione enorme nasce proprio per questo per essere concreti su un'innovazione sostenibile il mercato lo vuole meno male sono contento di tutti i movimenti che sono nati e nulla noi abbiamo creato uno un canvas un innovability model canvas che guida le aziende a porsi tutte queste domande comunicazioni impatti ISG processi risorse economiche territoriale ambientali all'interno del flusso di creazione di progetto questo ormai è fondamentale perché abi ci ha detto che dobbiamo rendicontare insomma il nostro la nostra attività non solo finanziariamente e quindi esplosione delle dnf c'è tutto c'è stato il primo prodotto per le imprese realizzato da intesa san paolo in collaborazione con nativa per un finanziamento alle aziende che fanno la dnf e quindi lo slon quindi il sostenability di prestito sostenibile che ha delle agevolazioni rispetto ad aziende che non operano in maniera sostenibile quindi è un mondo in trasformazione la sostenibilità ne fa parte bisogna essere concreti perché tempo un paio d'anni e il consumatore comincerà ad accoggersi di quelle che sono green washing social washing toccate di arcobaleno a destra e sinistra e quindi avere anche qui mindset di un certo tipo aiuta a consolidare il business beh alla fine siamo praticamente tornati come era giusto che fosse al al punto di partenza cioè come abbiamo cambiato fino adesso il nostro modo di vedere quindi la nostra mentalità ma soprattutto come possiamo modificarla tutti insieme perché poi anche quello perché se la modifico io la modifichi tu non abbiamo fatto nulla no quindi bisogna proprio lavorare da questo punto di vista ed è anche per questo che abbiamo fatto luce così in chiusura ripercorriamo anche i punti fondamentali su quelli che sono i diversi target di riferimento che hanno esigenze diverse anche qui altro punto fondamentale le esigenze sempre più variegate dei clienti che però devono comunque confluire tutti nello stesso obiettivo con lo stesso traguardo cioè anche se abbiamo esigenze diverse poi bisogna andare tutti nella stessa direzione e altrimenti non abbiamo fatto nulla e di questo per questo che abbiamo detto bisogna avere delle fondamenta e delle basi solide ma soprattutto certe entro le quali muoversi perché solide vabbè diamolo un po' per scontato dai perché altrimenti vorrebbe dire che partiamo proprio da zero zero solide sì però anche ben studiate ben monitorate anche il tema del controllo che poi è strettamente collegato alla privacy è MERS insomma vedete è tutto assolutamente collegato potremmo stare qua fino a domani mattina se vuoi Alberto ci stiamo però non so se sono d'accordo le persone che ci seguono più che ci sono tante cose da fare proprio per andare verso l'innovazione ecco però però cosa meno resta con me per la chiusura e per i saluti finali poi poi saluto te naturalmente io volevo ricordare magari la regia può farlo passare ancora in grafica il quello che potrebbe essere un nuovo format tv che stiamo un po' studiando e che magari avremo l'opportunità di studiare anche a tutti insieme con voi che siete i player come detto insomma del settore a livello nazionale internazionale questo format dedicato proprio all'open finance che è un tema che sarà sempre più presente nel nostro business e che riguarderà tutti noi proprio per le ragioni che abbiamo che abbiamo detto quindi Alberto stessa cosa rivolgo c'è domanda rivolgo a te insomma mi farebbe piacere se anche tu fossi dei nostri perché davvero bisogna lavorare tutto in gruppo e quindi vediamo dopo l'estate quali saranno le novità in merito con piacere assolutamente anche questa innovazione sì assolutamente sì bisogna sempre creare allora io tanto ringrazio saluto Alberto Baccari e dove innovation endurance group e ci vediamo presto sicuramente anche su tutte le altre nostre iniziative grazie per essere stato con noi buon proseguimento di giornata grazie a voi buon lavoro e grazie a voi che ci avete seguiti chiudiamo qui questa intensa mattinata anche siamo praticamente in orale quindi vi lasciamo al pranzo al lavoro insomma però sperando di aver messo sul tavolo davvero degli spunti di riflessione importanti che possano servire a costruire qualche ospite scherzando dicevo ho preso appunti dagli altri relatori quindi copio un po' le strategie però il segreto è anche quello bisogna avere tutti noi dei fari a cui mirare il faro funge sempre un po' da direzione poi ciascuno di noi le declina declina quello che impara a seconda delle competenze personali ma anche della diciamo del core business aziendale grazie quindi chiudo e davvero grazie per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di giornata e alle prossime iniziative